Avete anche voi la sensazione che in questo momento storico se dai alle persone la possibilità di scegliere fra due cose voteranno sempre la cosa peggiore? Io ormai non mi stupisco più di niente dire di sì alla Brexit, tornare alla lira, restaurare il feudalesimo anche se noi facessimo un referendum più fantasiosi, più purché passatisti io sono sicuro di quale sarebbe il risultato Volete voi abrogare la norma che vieta il fumo negli aeroplani? Sì, sì noi vogliamo ricominciare a fumare negli aerei noi vogliamo spegnere le scicche fra i riposaceneri dentro fra i braccioli dei sedili Volete voi abolire la geografia? Sì, a noi la geografia ci ha rovinato C'ha rovinato la caca, a chi piace la geografia? A che serve il Belgio? Volete voi destinare il 10% del PIL all'implemento del servizio del televideo? Sì! Non si stava tanto bene col televideo Ci hanno torto il televideo Dateciano di più di televideo Volete voi cittadini di Pisa, Genova, Venezia e Amalfi Che i vostri comuni riacquistino lo status di Repubbliche Marinare Io sono sicuro che già dalle 4 di mattina a Pisa fuori dai seggi ci sarebbe una fila chilometrica di ottantenni pisani affelenati Sì! Noi si vuole tornare a commerciare col Granduca d'Urbino Make Pisa great again! Possano i miei nipoti morire pisani scopandosi fra di loro E i nipoti muti Soffocati da questa maggioranza di anziani irrazionali, infuriati Ma nonno, ma noi si voleva andare a trombare in Erasmus Taci, guelfo maledetto!